4, 2, 2, 3 Sì, non vedo l'ora che arrivi questa gara per cercare di recuperare le ultime in cui non siamo andati al meglio Spero che la vettura sia più veloce e che la gara vada meglio anche per me Non so se potremo puntare alla zona punti ma ci giocheremo tutte le nostre possibilità di farlo Questa prima metà di stagione è stata divertente, ho imparato, soprattutto ho imparato molto, questo sicuro Ho commesso degli errori, ho anche fatto qualcosa di buono, penso che in generale sia stata piuttosto positiva Non credo che siamo esattamente dove vorremmo essere, perciò il team, Dani e il mio compagno di squadra Stiamo spingendo tutti molto forte, lavorando molto sodo insieme per migliorare la vettura Per migliorare anche me stesso dal mio punto di vista, per avere un proseguo di stagione e una fine di stagione molto migliore Tutto è possibile, per ora il gruppo è molto combattuto, nell'ultima gara abbiamo dimostrato di aver perso un po' di prestazioni rispetto agli altri Perciò speriamo prima di tutto di essere allo stesso livello dei nostri avversari Da lì sentiamo che sia possibile fare una grossa differenza a questo punto di vista Perciò prima di tutto dobbiamo recuperare e poi avere del buone gare, faremo di tutto per riuscirci Penso che il team sta spingendo molto al momento per avere più carico, lavorando sulla vettura La situazione è così combattuta che tutto si può migliorare, perciò sia dal punto di vista del team che dal mio Devo migliorare, immagino le qualifiche e comprendere meglio la vettura Quattro, due, due, tre!